Se non puoi volare allora corri, se non puoi correre allora cammina, se non puoi camminare allora gattona, ma qualsiasi cosa fai devi continuare ad andare avanti e sii sempre il meglio di ciò che sei. Riprendendo una citazione di Martin Luther King, il sindaco di Fano Massimo Serie ha augurato un in bocca al lupo ai maturandi della città. Dopo 100 giorni, questa mattina le scuole hanno riaperto i battenti per accogliere alunni e docenti delle 13.000 commissioni in tutta Italia. A Fano sono tornati in classe 700 studenti per un'unica prova, il maxiorale. Un po' agitata, ma penso che sia normale comunque, anche dopo tutto questo periodo di lockdown tornare fa un po' effetto e comunque l'ansia ci sta perché tanto è normale, è l'unica chance che abbiamo per giocarci la maturità. Poi anche essendo la prima, non avendo nessuno che ti dice com'è andata, cosa dicono, metto un po' ansia. Ma è più emozionata lei o la sorella? No, sicuramente lei, assolutamente. Sì, sì, negli ultimi giorni. Sì, sì, io so alla fine com'è, quindi l'emozione è tutta sua. Io l'ho già vissuta, quindi io adesso e poi dopo anche l'altra sorella saremo sicuramente qui tutti per lei. L'attesa di fare l'esame? Sì. Come andrà quest'anno con il maxiorale? Speriamo bene. Siete preoccupati? Meglio così o come gli anni precedenti? Sicuramente meglio così, però comunque l'ansia c'è, le cose da studiare sulle stesse. Non c'era l'obbligo d'atesina, quindi ho dovuto studiare un po' tutto, diciamo. Poi da domani libertà? Ah, sicuro, senz'altro. E da settembre? Settembre speriamo di riuscire a entrare dove ho tentato l'esame a Milano, se no si va da Ancona. In quale facoltà? Marketing a Milano oppure economia? Alla fine è un orale, quindi bisogna mostrare le proprie competenze e cercherò di fare il meglio. Certo. Progetti poi per il futuro? Eh, provo a entrare a medicina. Com'è accompagnare la figlia in questo esame importante della vita? Beh, a sostenere i carichi di ansia, accompagnarla, sì, per rompere il ghiaccio, per buttarsi nell'acqua della vita. Ed è stato un esame unico per le misure di sicurezza previste in seguito all'emergenza sanitaria, ma anche per le modalità di svolgimento che hanno tenuto conto della particolarità di questo anno scolastico. I maturandi hanno infatti sostenuto la prova orale durata circa un'ora. Le commissioni composte da sei membri interni più il presidente hanno accolto gli studenti che hanno discusso un elaborato sulle materie di indirizzo, trattando un argomento già concordato con i docenti della classe. È seguita l'analisi di un breve testo studiato durante l'anno nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, poi gli argomenti scelti dalla commissione e in chiusura le conoscenze relative alla cittadinanza e costituzione. Abbiamo iniziato con regolarità e stiamo procedendo anche rispettando i tempi che ci siamo dati. Allora le norme da rispettare sono sì davvero tante, ma sono tutte norme che appunto tendono a garantire la sicurezza dei candidati e di tutta la commissione. Sappiamo che appunto i candidati possono arrivare a scuola non più di 15 minuti prima rispetto all'orario con cui sono stati convocati. e la convocazione è stata loro comunicata anche tramite mail, tramite registro, addirittura anche tramite telefonata. Il candidato è l'unico che all'interno della commissione può abbassare la mascherina durante il colloquio, mentre tutti noi diciamo dobbiamo appunto mantenere la mascherina per una questione appunto di garantire la sicurezza di tutti quanti, secondo poi il protocollo che naturalmente è stato siglato anche a livello così ministeriale. Previste le sanificazioni, ingresso ed uscita separati e il distanziamento interpersonale di almeno due metri all'interno dell'aula, insomma una maturità che non ha precedenti nella storia. Meglio con queste modalità o meglio le vecchie quando non c'erano questi problemi di Covid? Io sinceramente penso che, cioè io dal punto mio di vista penso che sia meglio una modalità come questa perché dà più peso a quello che è stato fatto durante i cinque anni, mentre quello che riguarda un esame in fondo che dovrebbe valutare tutti i cinque gli anni, magari uno può averci l'ansia, quindi semplicemente andare peggio. Ed ora è finita? Sì, ora è finita. Cioè per due o tre mesi non ne voglio più sapere. Com'è andata? Eh dai, è andata bene, può andare sempre meglio diciamo. È stato difficile? Sì, magari l'argomento da collegare non me l'aspettavo, è stato anche un po' difficile da collegare con le varie discipline, però comunque ho trovato anche dei suggerimenti da parte dei professori, quindi alla fine mi sono orientato, è andato bene, sono contento del mio esame, penso che sarà un ricordo molto bello. Bene, ora che hai finito quanto ti aspetti? Quale votazione? Allora la votazione è una cosa molto complicata da dire subito, così mi aspetto un 30 spero, almeno come l'università diciamo. Però più o meno dai, un 30, abbastanza bel voto. Un voto di uscita non lo so, forse un 80 spero, spero, non ne ho idea. Com'è stato questo esame ai tempi del Covid? È stato molto particolare, mi hanno tenuto fuori fino a due minuti prima di entrare, se non potevo neanche mettere un piede dentro la scuola. È stata una bella cosa da una parte, perché adesso ho finito, ma a guardare il tutto anche da distante forse l'avrei preferito come gli anni scorsi, diciamola così. Proseguirai il tuo percorso di studi con l'università? Sì, assolutamente, vado al Politecnico di Milano, che sono già entrato, quindi anche da quel punto di vista sono, grazie. E niente. Buona fortuna per il futuro. Grazie mille. Orgoglioso del figlio? Sì, comunque si è andata orgoglioso, bravissimo ragazzo. Ci raccontava anche dell'università, per cui un ragazzo con la testa sulle spalle. Sì, ha approvato l'esame l'anno scorso, è finita la quarta, il Politecnico, è andata bene, quindi già speriamo per il futuro. Speriamo anche per tutto questo che sta capitando qua attorno e che si ristabilisca presto la normalità.